Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare, 3 km di coda per viabilità esterna che non riceve verso Firenze, tra Firenze Ovest e Firenze Peretola, nella carreggiata opposta, quindi verso Pisa, rallentamenti per perdita di carico tra Pistoia e Monte Catini Terme. In FIPI, rallentamenti per traffico tra la Strasigna e Firenze Scandicci verso Firenze, in carreggiata opposta, Code, in uscita a Scandicci e in uscita a Santa Croce. Siamo al traffico ferroviario per un guasto sulla linea da Arezzo a Monte Varchi, i treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni, tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, via Cavour è chiusa fino al 7 ottobre da Piazza della Libertà a via Sant'Anna per lavori di rifacimento di un allaccio alla rete idrica. Percorso alternativo via Le Matteotti, via La Marmora, via Veneto. Buon aversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.